Sono Heinrich Schneider, chef e maître de la maison dell'Auernhof di Sarentino. Ci troviamo qui vicino alla nostra dimora, in mezzo ai boschi dove raccolgo tutte le mie erbe per la mia cucina. È una cucina di natura, moderna, dove uso 50 erbe selvatiche diverse. Quando ho iniziato nel 1998 insieme a mia sorella abbiamo detto che questo è il nostro progetto vincente per la nostra dimora. La sera poi prepariamo i menù di degustazione dal terra green, da 5 portate fino a 16 portate, il grande menù experience. Io e Gisela, mia sorella, vi aspetteremo qui all'Auernhof a Sarentino. Grazie. Grazie a tutti.